Vi ricordo appunto, comunicazione di servizio, tutte le domande vi invito a farle o eventuali commenti via chat, io come moderatore poi le raccolgo e per non interrompere Italo ogni momento o distrarlo, poi appunto le facciamo di volta in volta in momenti in cui possiamo appunto prendere una pausa e rispondere a più domande insieme. Quindi vi rispondo via chat e vi seguo io, oppure Italo quando magari si ferma, magari fa un'articola pausa, ne approfittiamo per raccogliere domande. Per chi di voi non conosce Italo Vignoli, che è difficile diciamo nella nostra comunità non conoscerlo, ma comunque è presidente onorario Libre Italia, è stato ospite nei nostri eventi dal vivo, prima del Covid ovviamente, in diverse edizioni, ad esempio dell'Open Design Conference, ma anche di altri eventi della Linux Arena. Abbiamo avuto insomma con Libre Italia, è da tanto tempo che collaboriamo e collaboreremo sempre di più, si spera, insomma anche per quanto riguarda la proposta dei corsi, adesso non vi anticipo e butto lì qualche piccola anticipazione, ma insomma cercheremo di avere sempre più contatti con quella che possiamo dire essere una delle associazioni comunque più importanti a livello nazionale, che si adopera per il software libero, vabbè non solo open office, perché comunque le battaglie diciamo che porta avanti sono a vantaggio di tutti quanti, ma comunque è una delle associazioni che si è più distinta nella lotta, lotta, vabbè per modo di dire, insomma nel portare avanti sicuramente tutte quelle che sono le istanze del software libero e del software open source nella pubblica amministrazione in particolare. Ecco, oggi parliamo non specificatamente di Libre Office, ma di un argomento un po' più ampio, comunque inclusivo, che è lo standard dell'Open Document, che ovviamente riguarda magari principalmente Libre Office, ma non solo. e niente, vi lascio il libro Italo anche a presentarsi da solo, perché il ruolo in Libre Italia non è l'unico che ricopre, quindi se vuoi raccontare cosa fai anche in the Document Foundation e in Open Source Institute, magari, perché possono essere anche argomenti interessanti, ti lascio la parola e spengo la mia videocamera e ti lascio completamente alla scena. Ok. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti per intanto, inizio dicendo che chiunque pronuncia la parola open office è obbligato a fare o no, come ha fatto Giovanni un minuto fa o due minuti fa, deve fare un obbolo obbligatorio di 20 euro alla fondazione in cospargersi il capo di cenere e camminare sui ceci con le ginocchia, perché si chiama Libre Office, sono dieci anni che si chiama Libre Office e non Open Office. Dunque, allora, cosa faccio? Io ho iniziato quasi per caso la mia avventura nel mondo del software open source nel 2002-2003 come utente, cercavo un'alternativa a Microsoft Office e ho fatto un po' di prove all'epoca e poi mi sono imbattuto in Open Office che era alla versione 1.1, quindi abbastanza pionieristico e ho iniziato a seguire, non conoscevo per niente il software open source, io ho un background che non ha nulla a che vedere con il software dal punto di vista tecnico, anche se mi sono occupato di marketing delle tecnologie dal 1900, intorno al 1981 in avanti, e quindi sono capitato per caso, ho iniziato a seguire la comunità e ho iniziato a... poi mi sono proposto per fare un po' di marketing di Open Office, sono entrato nella comunità, sono alla fine, quando si è trattato di pensare al Fork, sono stato coinvolto nel gruppo dei fondatori del progetto, quindi sono uno dei 16 fondatori del progetto Libre Office, poi abbiamo fondato l'Associazione Libre Italia, io continuo a occuparmi a livello di Document Foundation, sono uno dei portavoce e mi occupo del marketing di Libre Office, marketing e comunicazione, sono da due mesi, ma lo ero già stato in passato per tre anni, membro del board di Open Source Initiative, che è una delle due organizzazioni di riferimento nel mondo del software libero open source, insieme a Free Software Foundation, e in particolare Open Source Initiative è quella che ha la responsabilità di approvare le licenze, e sono anche co-chair del progetto ODF Advocacy, legato a Open Document Format, all'interno di Oasis. e mi occupo un po' di tutte queste cose, qualcuna la faccio meglio, qualcuna anche per problemi di tempo la faccio, non la faccio altrettanto bene, mettiamola così. Vi ricordo che sono il 2010, 2020 sono 10 anni di Libre Office e 20 anni di Office Suite Open Source, perché Sun aveva annunciato Open Office a Oscom Monterrey il 19 luglio del 2000, e il 28 settembre del 2010 abbiamo annunciato, noi come comunità, Libre Office, tanto che abbiamo fatto anche un logo, e chiaramente poi è arrivato il virus che ci ha un po' rovinato i piani, dovevamo essere presenti in un sacco di eventi, siamo presenti in un sacco di eventi virtuali, ma non fisicamente, e questo un po' ci manca, perché il contatto fisico all'inco le comunità locali è molto importante. Andiamo direttamente un po' a quello che è successo nel 2010, cioè nel 2010 la comunità ha preso in mano il progetto che all'epoca era Open Office, un po' perché Sun era stata acquisita da Oracle, e c'era il rischio, e che poi si è rivelato realtà, che Oracle abbandonasse completamente il software, e un po' perché era tempo che la comunità cominciasse ad avere voce un pochino più forte all'interno del progetto. Sun faceva un po' da padre padrone, non lasciava molto spazio ai contributi di molti volontari, soprattutto di quelli che non erano allineati in particolare con l'azienda. Quindi c'è stato questo annuncio, e chiaramente siamo partiti con LibreOffice, uno dei punti su cui siamo stati estremamente chiari sin dall'inizio, è che noi ci saremmo occupati, e avremmo gestito a pieno titolo il formato Open Document Format, in quanto riteniamo di essere gli eredi del progetto iniziato all'epoca da Sun, con la prima scrittura del formato Open Document Format, siamo stati a pieno titolo tra coloro che hanno poi contribuito all'evoluzione delle versioni successive 1.2, e in questo momento possiamo dire di essere gli unici che si sono presi la briga, la responsabilità, e anche l'onere e l'onore di raccogliere anche i finanziamenti per arrivare alla definizione di ODF 1.3, che è stato definito alla fine dell'anno scorso, è quello che si chiama Standard Draft, non è ancora stato approvato da ISO, perché poi c'è un passaggio successivo, adesso verrà implementato da LibreOffice con la versione 7.0, e successivamente poi si passerà a fare in questo modo, essendoci poi un software che lo supporta in modo formale, si passerà a definirlo come Standard Oasis, e Oasis poi farà tutto il processo perché diventi Standard ISO. In poche parole, anche se non c'è ancora una presentazione specifica sulle novità di ODF 1.3, diciamo che è una versione che aggiunge una serie di nuove funzionalità nell'ambito di Open Formula, quindi nell'ambito del formato del foglio elettronico Calc, risolve molti dei problemi, dei bug aperti, che c'erano un po' in tutte le diverse aree dello Standard, che è estremamente valido e robusto, però chiaramente essendo anche uno Standard molto complesso, aveva anche qualche bug qui e là, introduce la firma e la criptografia basata su PGP. Ci sono poi altre novità. Però appunto stasera ci focalizziamo su ODF, sull'interoperabilità, sui formati Standard. Allora, questa è chiaramente un'immagine che ricorda l'interoperabilità fisica. L'interoperabilità fisica è quando io l'ho fatto per anni, i più giovani lo fanno un po' di meno, ma per anni ci siamo scambiati documenti in formato cartaceo. Oggi non dovremo più farlo, continuiamo a farlo in un certo numero di casi. Il problema purtroppo è che continuiamo a essere educati come se l'interoperabilità fosse solo di tipo fisico. Nessuno introduce concetti di interoperabilità digitale a livello scolastico. Quando naturalmente gli studenti sarebbero invece in grado di assorbire, di accettare, di fare proprio questi concetti, con una facilità molto maggiore rispetto a quella delle persone di età più avanzata. Io mi sono trovato a passare dall'interoperabilità fisica a quella digitale che avevo quasi una cinquantina d'anni, per cui ovviamente nella mia testa c'erano incrostate un certo numero di abitudini. Se si iniziasse a farlo a partire dalla scuola probabilmente ci sarebbe un enorme vantaggio per tutti quanti. Anche perché i documenti stanno evolvendo, noi siamo passati da documenti tradizionali non strutturati, basati sul formato, dove quello che faceva Federer era la stampa del documento, non era il suo contenuto, a documenti evoluti che hanno formatazioni diverse in base allo strumento, in teoria hanno ridotte necessità di stampa, anche se si stampa ancora troppo rispetto alle necessità. Ovviamente possono essere condivisi in modo dinamico e possono essere gestiti con editing collaborativo. Tutto questo fa dei documenti che erano già abbastanza complessi nella prima versione, quindi quella dei documenti tradizionali, ancora più complessi. Quindi i formati diventano un fattore fondamentale per l'interoperabilità, per la gestione, per l'evoluzione dei documenti. e quindi si è dovuti arrivare a un trade-off, a un bilanciamento sulle funzioni, cioè bisogna, da un lato sarebbe bellissimo avere la possibilità di avere funzioni estremamente avanzate, dall'altro lato però siamo un po' legati al fatto che la struttura deve essere una struttura gestibile, che un formato deve essere universale, e accessibile, che la ricchezza semantica, sì, è chiaro, però è limitata per esempio nel caso dei documenti, comunque dal fatto che esistano dei linguaggi che siano in grado di gestire questa ricchezza semantica e comunque anche dal fatto che i documenti siano comprensibili. Perché avere documenti che sono estremamente ricchi, ma sono poi impossibili da gestire a livello di interoperabilità, ci costringe di nuovo a ritornare a un'interoperabilità di tipo cartaceo che definirei storica e abbondantemente superata. L'interoperabilità è possibile, però purtroppo noi non impariamo a creare documenti interoperabili, interoperabili ragioniamo ancora su come viene il documento in fase di stampa, si sente ancora molto spesso stampamolo che così vedo come è venuto il documento, usiamo formattazione font di fantasia, il Comic Sans è una barzelletta, ma purtroppo è ancora utilizzato da troppa gente, ma anche altre font che in realtà non sono, essendo font che mancano di funzionalità, oppure hanno licenze non aperte, limitano la possibilità di scambio, e poi non rispettiamo la semantica del linguaggio XML. È ovvio che la semantica del linguaggio XML è un aspetto più complesso, però ripeto, non è che dobbiamo spiegare alle persone il linguaggio XML, ma gli dobbiamo insegnare alcune regole di buonsenso che aiutano a creare documenti di tipo interoperabile, perché poi alla fine ci lamentiamo se il documento è incasinato, però poi siamo i primi a gestire documenti incasinati, quindi purtroppo ci vorrebbe un processo di apprendimento che non esiste, basato sul fatto che si deve usare uno standard aperto, che si devono usare font aperti, e disponibili per tutte le piattaforme, che i documenti devono essere, dovrebbe essere possibile aprirli con qualsiasi software e con qualsiasi sistema operativo. Le persone, la maggior parte degli utenti, non ha questo tipo di nozioni, queste nozioni non vengono introdotte e spiegate dalla scuola, e questo secondo me è un problema enorme. Si arriva, gli studenti arrivano all'università che ignorano completamente questo tipo di basi che sono fondamentali e che forse in alcuni casi anche sbagliato, in molti altri paesi invece cominciano ad essere introdotte all'interno della scuola dell'obbligo e comunque poi quando si arriva all'università si dà abbastanza per scontato che certi concetti debbano essere assorbiti. le applicazioni dobbiamo, chiaramente il processo di educazione deve partire dalle applicazioni quindi dobbiamo insegnare agli utenti come si usa un software con l'obiettivo dell'interoperabilità. Tutto questo lo facciamo noi lo facciamo quando facciamo i corsi però è ancora troppo poco e le persone sono convinte perché ovviamente in questo sono educate nel modo sbagliato dalle aziende che chiaramente hanno tutto l'interesse a far sì che l'interoperabilità non ci sia perché altrimenti l'interoperabilità è la morte del lock-in e ci sono aziende che vivono o fanno fatturati significativi in funzione del lock-in chiaramente le aziende e quindi le scuole e in molti in gran parte il sistema scolastico che invece dà grande importanza e precedenza alle aziende alla fine insegnano esattamente il contrario l'università di Milano ha fatto una circolare credo una ventina di giorni fa in cui diceva l'unico formato che non deve essere usato è ODT cioè è esattamente il contrario di quello che doveva scrivere doveva scrivere l'unico formato autorizzato è ODT invece dicono no perché ci sono difficoltà a leggerlo e certo nel momento in cui passiamo da formati che sono pedestri non costruiti per l'interoperabilità a un formato invece studiato per l'interoperabilità tutti dobbiamo fare uno sforzo di transizione se non vogliamo fare questo sforzo di transizione rimarremo schiavi di formati proprietari che ci obbligheranno nel breve medio lungo periodo all'acquisto di software e al rinnovo dell'acquisto di software per poter accedere ai contenuti che noi stessi abbiamo creato quindi è purtroppo un c'è un vizio di forma che è legato all'ignoranza di alcuni concetti dall'altro lato alla sudditanza nei confronti delle aziende noi cerchiamo di fare evangelizzazione ma è abbastanza complicato vi invito ovviamente qualsiasi spunto ci sia per un'azienda per una pubblica amministrazione su queste cose qui cerchiamo di coinvolgerci a vicenda perché è fondamentale perlomeno iniziare a instillare il dubbio nella testa delle persone le organizzazioni ovviamente avrebbero enormi vantaggi sull'adozione di formati standard ma ignorano i vantaggi che potrebbero avere quindi pensano che quello che hanno sia un male cioè i problemi che sono legati ai formati sia non male ineluttabile invece è possibile tranquillamente evitare quei problemi e gli utenti devono essere educati devono essere educati a usare modelli e stili a gestire le informazioni in un certo modo esiste chiaramente un un mito sul fatto che se si introduce un formato interoperabile questo rappresenti un problema noi abbiamo una ricerca adesso vi faccio vedere un paio di slide la città di Nantes in Francia è passata con decisione a ODF e ha fatto dopo un po' di tempo una ricerca all'interno dell'organizzazione chiedendo quando condividete i documenti fuori dall'organizzazione e parliamo di documenti ODF quindi non di documenti in formato Microsoft Office come vedete il verde è non ho problemi il giallo è qualche volta ho dei problemi il rosso è ho spesso dei problemi quindi il fatto che condividere ODF abbia sempre dei problemi è un falso mito questo è ovvio questa è la cittadinanza non è una ricerca a livello mondiale ma vi assicuro che l'esperienza ci conferma questa cosa qui quando si parla hanno chiesto ma quando le altre aziende gli dite di usare LibreOffice che cosa fanno il 17% non ha problemi il 40% lo utilizza senza grossi problemi nel 40% dei casi il 32% ogni tanto e l'11% nulla anche qui è ovvio che se noi partiamo con una posizione di sudditanza se usiamo ODF chiaramente poi protesteranno partiamo già col piede sbagliato dobbiamo essere orgogliosi del fatto che noi usiamo un formato migliore e superiore e quindi casomai sono gli altri che ci costringono a usare dei formati che sono problematici non siamo certamente noi a usarli e la cittadinanza infatti quando ha avuto relazioni con gli esterni ai fornitori ai satelliti quindi ipotizzo potrebbero essere le consociate tipo la società dei trasporti pubblici o quelle delle acque e così via dove c'è controllo loro hanno obbligato all'uso di ODF con gli altri hanno raccomandato l'uso di ODF loro lo hanno fatto in modo abbastanza deciso devo dire ottenendo dei risultati abbastanza buoni certamente non si arriva mai al 100% perché le resistenze sono molto forti e qui parliamo di resistenza al cambiamento la resistenza al cambiamento è il fenomeno più classico delle migrazioni a libre office e ai formati aperti questa è la curva come dire scientifica Kübler-Ross era una psicologa svizzera che ha fatto questo lavoro di analisi sulla resistenza al cambiamento estremamente importante poi è stato questo il suo lavoro è stato ripreso anche con come dire in modo un po' ironico da qualche da qualche altro studioso qui vedete una interpretazione di John Fisher 2012 con un po' fumettistica che però comunque non cambia nella sostanza la migrazione e l'uso di formati aperti è possibile e ce lo dimostrano i numeri delle migrazioni che sono stati effettuati queste come vedete sono numeri importanti purtroppo non abbiamo i numeri di tutto questi sono i progetti più grossi in assoluto questi sono un pochino più piccoli ma come vedete sono comunque diffusi e questi sono riguardano il sistema russo in generale la Russia sta abbandonando i software sviluppati negli Stati Uniti e quindi sta passando a una distribuzione Linux che è stata che è sviluppata in Russia si chiama Astra Linux e Astra Linux al suo interno ha LibreOffice quindi questi sono i numeri degli utenti in alcuni casi non sono disponibili perché il paese ovviamente non è un esempio di trasparenza però sicuramente ci sono numeri molto importanti e sono tutte organizzazioni che si muovono tranquillamente non sono fallite perché sono passate a software open source a formati aperti eccetera abbiamo anche purtroppo perché devo dire non è certamente un sintomo di buona gestione amministrazioni pubbliche che vanno e vengono quella di Monaco di Baviera credo che avrà il record mondiale di andate e ritorno dal software open source perché ha fatto un'esperienza di migrazione a Linux e per 13 anni ha usato Linux senza problemi poi ovviamente sono arrivati le strategie di lungo termine di Microsoft per cui aveva deciso di tornare a Windows spendendo 90 milioni di euro in più di quelli previsti per la gestione del sistema basato su Linux adesso con la nuova elezione la nuova coalizione all'interno della quale ci sono i verdi ha bloccato tutto e quindi sembra che facciano un nuovo ritorno a Linux mentre erano a metà strada nella rimigrazione verso Windows è un po' ridicolo effettivamente purtroppo è un segno del fatto che non sono decisioni prese per motivazioni tecniche profonde ma in molti casi perché purtroppo siamo a livello politico siamo perché in Italia questo funziona forse meglio che in altri paesi siamo governati dalle lobby delle aziende e non da scelte politiche di medio lungo periodo scelte politiche oculate adesso un inciso se ci sono delle domande su questa diciamo parte iniziale che è un po' filosofica se no andiamo non vedo nulla sulla chat quindi no Italo volevo solo chiederti io sulla Cina anche mi pare che come hai citato la Russia che si vuole un po' distanziare dai prodotti software statunitensi mi pare anche la Cina sì però non abbiamo dati per niente cioè la Cina purtroppo non zero quindi la Cina aveva iniziato ma era tra l'altro c'è stata la conferenza di open office nel 2008 a Pechino io sono stato a Pechino nel 2008 per la conferenza di open office all'epoca c'era un come dire c'era una strategia con un'azienda che si chiamava red flag bandiera rossa che aveva fatto una distribuzione aveva integrato open office ma poi non si è saputo più nulla probabilmente sono andati avanti ma anche la comunità taiwanese che è di libre office che è molto forte e che è anche abbastanza vicina alla Cina la Cina considera Taiwan una provincia Taiwan invece si considera paese indipendente però in ogni caso la Cina parlano la stessa lingua e hanno scambi economici molto forti non abbiamo informazioni particolarmente precise nemmeno da parte dei taiwanesi che appunto parlando la stessa lingua quindi possono anche leggere le fonti che noi abbiamo più di qualche difficoltà a leggere sicuramente quello che possiamo dire è che c'è un sommerso dell'open source che è poco visibile e che sarebbe bello portare alla luce ma per una serie di motivi che sono in molti casi difficili da capire anche di reticenza paura non lo so molti hanno difficoltà a ammettere che stanno utilizzando software open source e in alcuni casi noi abbiamo avuto delle pubbliche amministrazioni in Italia che ci hanno proibito dal dire che utilizzano LibreOffice quindi non possiamo dire chi sono non sono molto però sì anch'io ho avuto diversi riscontri diciamo di istituzioni che effettivamente sono migrate LibreOffice senza fare piani di migrazione senza coinvolgere diciamo facilitatori c'era Claudio che chiedeva forse non ha capito bene quest'ultima parte se in Cina si è diffuso LibreOffice oppure OpenOffice allora l'epoca era OpenOffice ma era il 2008 chiaramente non abbiamo non abbiamo informazione però la realtà che credo tutti quanti sappiano è che OpenOffice di fatto è stato Apache OpenOffice è stato creato da Oracle perché c'era un contratto in corso con IBM all'epoca IBM aveva un contratto con Sun che consentiva IBM di usare il codice di OpenOffice per un prodotto proprietario quindi di fatto ignorando la licenza Open Source siccome questo contratto scadeva nel 2014 nel 2016 non è chiaro l'anno di scadenza però sicuramente scadeva dopo il 2010 chiaramente Oracle ha dovuto chiedere a IBM che cosa che cosa fare del software e IBM che non voleva assolutamente che il software finisse nelle mani della comunità ha creato Apache OpenOffice con l'obiettivo di uccidere LibreOffice ma lo hanno scritto in modo molto chiaro quelli di IBM che loro volevano che la comunità passasse tutta lì perché così loro potevano controllarla e in realtà poi questo per una serie di motivi fortunatamente non è successo IBM nel 2014 dopo aver come tutte le grandi aziende americane aveva avuto un progetto e un budget per tre anni quindi 2011 2014 ha bruciato 15 milioni di dollari su questo progetto quando è stato chiaro che non aveva più che il progetto non era un successo IBM è uscita quasi dall'oggi al domani nel momento in cui sono usciti gli sviluppatori di IBM Apache OpenOffice non ha più avuto sviluppatori di fatto è fermo a sei anni abbondanti fa quindi parliamo in questo momento non esiste a parte per motivi diversi da quelli tecnici non esiste amministrazione che non scelga LibreOffice perché la differenza tra i due prodotti è una differenza enorme quindi anche con i cinesi con cui ho parlato parlando con il mio cappello Osi comunque erano utenti di LibreOffice il problema purtroppo è che non ci sono numeri aggregati sull'evoluzione all'epoca c'era un laboratorio di ricerca IBM a Pechino che lavorava su OpenOffice ovviamente nel momento in cui IBM è uscita non è che ha chiuso ma ha dirottato gli sviluppatori cinesi su altre cose quindi l'IBM come tutte le grandi aziende americane non lascia i propri dipendenti liberi di fare delle scelte personali se tu sei un dipendente IBM non puoi contribuire a progetti che siano vicini a IBM perché l'azienda chiede l'esclusiva delle tue prestazioni chiamiamole così ma questo non è solo IBM sono molte delle grandi aziende di Information Technology che lo fanno io ho lavorato in Aniwell tantissimi anni fa e comunque era così cioè non avrei mai potuto fare neanche delle collaborazioni volontarie con un qualsiasi progetto perché era escluso completamente dal contratto di lavoro quindi sicuramente in Cina c'è un'evoluzione però purtroppo data la scarsa trasparenza del governo cinese sugli aspetti dieci economici non abbiamo informazioni in genere quindi poi vedremo se avessimo informazioni viva Dia saremmo i primi a cercare di darle adesso recupero un po' del mio passato di geografo facendovi vedere quattro quattro carte forse qualcuno di voi le ha già viste questa è la carta dei paesi del mondo per superficie quella che tutti quanti siete abituati a vedere praticamente le dimensioni e la forma riflettono un po' la superficie del paese sul planisfero quindi sulla sfera terrestre se usiamo come parametro invece che la superficie in chilometri quadrati la popolazione come vedete la mappa cambia per esempio l'Italia diventa più grande della Francia perché ha più abitanti l'India e la Cina ovviamente sono ipertrofiche guardate la Russia come diventa piccola il Giappone come cresce come crescono gli Stati Uniti diminuisce il Canada dalla Groenlandia praticamente diventa inesistente perché ovviamente qui è la densità della popolazione che fa la differenza guardate l'Australia come piccolina il prossimo la prossima mappa sono le esportazioni di licenze software qui praticamente ci sono solo Stati Uniti e in Europa la Francia per il motivo molto semplice che in Francia non è possibile vendere software che non sia sviluppato all'interno della Francia quindi la Francia esporta un po' di software nei paesi francofoni l'Irlanda e l'Olanda l'Irlanda e l'Olanda che non sono altro che dei trampolini del software americano per verso l'Europa quindi esportano verso gli altri paesi europei quasi tutto il software che viene utilizzato infatti vedete che gli altri paesi europei di fatto sono inesistenti quelli asiatici idem gli Stati Uniti sono la fanno di fatto da padroni guardate invece l'importazione di licenze software allora l'Irlanda ovviamente è ancora molto grossa perché per esportare importa però guardate gli Stati Uniti sono un pixel tra il Messico e il Canada il Giappone guardate come riprende l'Australia come cresce l'Africa dove si copia a mani basse ovviamente è molto piccola però queste mappe vi danno un'idea delle storture a cui ci troviamo di fronte con le politiche dissennate di tutti i governi non solo di quello italiano ma in generale di tutti i governi nessuno dei governi in Europa ha investito nella creazione e nello sviluppo di un sistema di information technology di una cultura e di un'industria locale dell'information technology per cui dipendiamo e dipendiamo purtroppo non solo per la fornitura del software ma anche dal punto di vista della cultura dell'information technology dipendiamo completamente dagli Stati Uniti e quindi dipendiamo dalle strategie commerciali delle aziende quando parliamo di standard adesso arriviamo si è mercatore la prima delle proiezioni è mercatore chiaramente quando parliamo di standard molta gente è confusa perché gli standard nel campo degli standard l'apparenza può ingannare quelle che vedete voi per esempio la gente dice ah ma non sono standard ma quelle sono le quelle vi faccio vedere le prese sono le interfacce le prese non sono lo standard lo standard è la corrente elettrica lo standard è la corrente elettrica e una volta che voi avete utilizzato l'interfaccia corretta voi potete utilizzare qualsiasi apparato elettrico oggi più o meno diciamo quasi il 100% senza problemi in qualsiasi paese perché perché gli standard elettrici sono tre e ormai quasi tutti gli apparati elettrici sono multi standard nel campo del software il fatto che quello che si vede non è lo standard è prevalente succede quasi sempre ed è proprio questo l'equivoco su cui giocano le grandi aziende chiaramente l'importanza dell'HTML è stato il passaggio che ha fatto capire che c'era la possibilità di avere uno standard per i contenuti perché perché il CERN e Tim Berners-Lead si sono impuntati sul fatto che dovesse essere uno standard neutrale e gestito da un organismo neutrale tanto che poi il CERN ha ceduto l'HTML al World Wide Web Consortium e quindi abbiamo un consorzio neutrale che gestisce l'HTML ci sono stati tentativi di dirottamento però sono fortunatamente falliti tutti quanti chi è meno giovane si ricorda sicuramente di Internet Explorer 6 e del formato pseudo-HTML che gestiva è stato il tentativo da parte di Microsoft di deragliare di far deragliare l'HTML un formato standard aperto deve essere indipendente deve essere interoperabile deve essere neutrale e deve essere perenne quando parliamo di perenne molti pensano al concetto di backward compatibility che è il concetto esattamente il punto di vista sbagliato il backward compatibility a un certo punto costringe a dei compromessi e nel campo degli standard non si può fare un compromesso quindi lo standard deve partire da un punto in cui è lo standard 1.0 e da quel momento in avanti si può parlare non di backward ma di forward compatibility quindi da quel punto in avanti gli standard che verranno devono essere compatibili con la prima versione quindi non ci possono essere delle interruzioni nell'evoluzione dello standard perché chiaramente il formato 1.0 deve poter essere letto anche fra 50 anni ipotizziamo un formato un file ODT 1.0 ODF 1.0 che fra 50 anni potrà essere aperto ovviamente conterrà un sotto insieme delle funzionalità del formato che ci sarà fra 50 anni ma dovrà essere leggibile in quanto la sintassi dell'XML contenuta in quel file dovrà essere la stessa di quella contenuta nei file che circoleranno tra 50 anni questo perché perché dobbiamo garantire l'interoperabilità esistono definizioni di interoperabilità ovviamente il Lego che qui è raffigurato è un esempio di formato proprietario però è anche un esempio di interoperabilità io giocavo con il Lego quando avevo 6-7 anni quindi circa 60 anni fa con gli stessi mattoncini gioca mio nipote che ha il figlio di mia sorella che ha poco più di quell'età e ci giocava 10 anni fa quindi dopo quando erano passati 50 anni ovviamente aggiungendo nuovi mattoncini ma il quindi il modello di interoperabilità nel caso dell'Ego è rimasto lo stesso ed è un'interoperabilità forward nel senso che i mattoncini di 50 anni fa continuano ad essere utilizzabili non sono così flessibili come i mattoncini di oggi però non si buttano via dove siamo in termini di interoperabilità abbiamo tutto quello che riguarda in termini di protocolli di comunicazione standard abbiamo tutto quello che serve nel campo dei formati standard dei documenti e dei file avremmo in teoria le descrizioni semantiche le ontologie ma qui ci sono i furbetti della tecnologia quelli che interpretano le descrizioni semantiche le ontologie al limite della delle possibilità di interpretazione proprio per farne qualcosa che non è più uno standard fisso ma è uno standard che potremmo definire in movimento che è una roba è un controsenso parlare di uno standard di movimento però la realtà è questa qui cioè il formato office open xml di microsoft è di fatto un obiettivo in continuo movimento e non si sa se va a destra a sinistra in alto o in basso si sposta a seconda di quelle che sono sicuramente delle strategie molto ben pensate ma ovviamente altrettanto strategie altrettanto tenute all'oscuro del mondo e i processi di business ci sono però c'è una resistenza al cambiamento una cosa fondamentale è che la non interoperabilità ha un costo naturalmente le aziende hanno fatto di tutto perché questo non non trasparisse però fortuna ogni tanto ci vuole anche c'è anche un po' di fortuna che ci aiuta l'industria di fatto l'industria che finanzia le grandi costruzioni negli Stati Uniti quindi i grattacieli i grandi centri commerciali le grandi infrastrutture edilizie naturalmente ha bisogno di finanziamenti e vuole anche una rendicontazione alla fine dell'anno alla fine dell'anno a questa industria mancava sempre circa un miliardo di dollari quindi sono andati al dipartimento del commercio quindi al National Institute of Standard and Technology che potremmo dire che è una delle divisioni del ministero dell'industria in Italia se vogliamo fare un parallelo e gli hanno chiesto di fare una ricerca indipendente e questi hanno fatto una ricerca da cui è venuto fuori come vedete che 462 734 dollari quindi quasi mezzo miliardo di dollari è legato al reinserimento manuale dei dati perché mancava l'interoperabilità chiaramente non c'è una non c'è una dichiarazione specifica erano i documenti contratti piuttosto che le liste di lavorazione o altro però la realtà è che hanno buttato fuori dalla finestra via dalla finestra mezzo miliardo di dollari per problemi che usando documenti formati standard avrebbero probabilmente ridotto del 90% adesso dire che l'avrebbero eliminati completamente è probabilmente eccessivo ma l'avrebbero sicuramente ridotti questi sono i costi prima dell'inizio dei lavori questi sono i costi dopo l'inizio dei lavori ci sono ancora un 27 milioni di dollari sono tutti per mille ovviamente quindi parliamo di 27 milioni di dollari 450 milioni di dollari nell'altro caso e come vedete infatti poi alla fine gli manca un miliardo e 169 milioni di dollari che sono comunque una cifra enorme ma se pensate la percentuale come vedete guardate nelle due cose la percentuale maggiore sono quei 462 mila 734 dollari 462 milioni di dollari della rientri dei cost per cui c'è un costo di non interoperabilità purtroppo ci sono due standard allora l'odf ha un bellissimo marchio con una colomba office open xml non ha un marchio questo è stato disegnato da un greco che evidentemente sapeva il mio odio per le banane e quindi ha disegnato un marchio office open xml basandosi sulle banane e anche perché lo standard è uno standard effettivamente se volete lo standard delle banane del paese delle banane o a banana come standard va bene qualsiasi delle definizioni il processo di standardizzazione molto velocemente guardate solo l'ultima riga allora odf la revisione 720 pagine revisionate dalla commissione in 1239 giorni sono circa 4 4 anni 3 3 anni abbondanti nel caso di office open xml 7200 pagine sono state revisionate in 838 giorni cioè poco più di due anni è ovvio che parliamo non parliamo di un romanzo quindi non è come leggere guerra e pace in 800 giorni si legge anche prima queste sono specifiche quindi è una descrizione tecnica fare una revisione di 7200 pagine in 800 giorni è praticamente è tecnicamente impossibile neanche se uno non dorme per 838 giorni quindi la realtà è che il formato è stato approvato in modo ridicolo e purtroppo noi come come utenti siamo quelli che ne paghiamo le conseguenze formato di documenti quindi formato di documenti abbiamo un formato standard un formato pseudo standard è importante capire che ODF sgancia il contenuto dal software cioè il ODF è molto coerente proprio per chi è stato scritto in modo tale per cui non è possibile un'interpretazione delle semantiche e quindi ha delle caratteristiche che sono i concetti di base di ODF sono questi qui è solido e robusto questo perché appunto cerca di ridurre al minimo le complessità del formato le complessità a livello di XML è coerente tra i sistemi operativi perché se voi indipendentemente da quale sistema operativo voi utilizzate un formato ODF verrà scritto sempre nello stesso modo quindi è interoperabile proprio perché non essendoci differente se nel formato è facile da leggere indipendentemente dal dalla tecnologia utilizzata dai filtri dei software è prevedibile proprio perché i file sono sempre scritti nello stesso modo non c'è diciamo che lascia pochissimo spazio alla creatività quindi alla fine se volete il difetto di ODF è che i file ODF sono monotoni dal punto di vista dei contenuti o dal punto di vista della struttura perché la struttura è sempre la stessa però chiaramente nel caso di uno standard questo è un enorme vantaggio immaginatevi se per fare un parallelo voi avete voi andate con il vostro personal computer a casa di un amico e vi dovete portare il tester per andare a vedere che corrente esce dalla presa perché non è mica detto che sia un 220 perché se la corrente è erogata dalla versione X del formato è un 220 ma se erogata dalla versione Y diventa un 240 ma potrebbe anche essere un 258 e magari la versione Z eroga un 132 perché e tutto questo senza che sia possibile da fuori vedere le differenze perché queste non sono dichiarate e manca totalmente una trasparenza nella documentazione quindi quello che possiamo dire che ODF è l'unico formato standard ed è il miglior formato standard non posso non posso come è il migliore in quanto formato non in quanto formato standard scusate sicuramente sarebbe possibile creare un formato migliore in senso assoluto ma sarebbe un formato che non è interoperabile perché perché ODF è stato costruito proprio con l'interoperabilità in testa e quindi rispetta quelli che sono gli obiettivi iniziali è standard in Francia Olanda Portogallo Regno Unito Svezia e Taiwan sarebbe standard anche in Italia ma sappiamo com'è la storia eh questo è sono le motivazioni del 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 governo inglese adesso vado veloce su alcune cose perché vorrei portarvi ad altre eh ad altre eh a un altro tipo di analisi eh in Oasis ci sono due comitati tecnici uno è squisitamente tecnico ed è quello che gestisce l'evoluzione dello standard lo sta il formato è un file zip quindi qualsiasi file ODF ma anche qualsiasi file Office OpenXML quindi Microsoft Office eh se voi rinominate l'estensione da quella da ODT a zip da ODS a zip poi lo potete scompattare scompattandolo avete eh tutti i contenuti all'interno e potete veramente divertirvi in alcuni casi e basta basterebbe già questo per capire che ODF ha un enorme livello di coerenza mentre Office OpenXML ha un ridicolo livello di coerenza eh se noi usiamo un decoder proprietario eh qualsiasi cosa noi scriviamo in un documento è il proprietario del decoder che diventa proprietario anche dei contenuti è ovvio che eh finché voi continuate a utilizzare il software avete la falsa l'illusione che eh di essere proprietari dei contenuti però è una è un'illusione perché la realtà è che se il decoder viene cambiato e quei documenti non sono resi più accessibili da quel decoder voi non c'è modo in cui potete accedere ai documenti a meno che acquistiate di nuovo il decoder proprietario il codice senza decoder è inutile cioè quindi una lingua un formato senza decodificatore è come una pietra perché non è interpretabile questo è un codice in tre lingue le tre lingue però sono tutte e tre scritte in caratteri cuneiformi e gli archeologi ci hanno messo anni per capire ovviamente non possiamo pensare di metterci anni per capire cosa c'è dentro un documento eh il meccanismo di interoperabilità se lo vogliamo sintetizzare con un'immagine è questo qui ipotizziamo di avere un meccanismo che passa da un da LibreOffice che gestisce i dati in un formato ODF e Microsoft Office o OnlyOffice che li gestiscono quindi il datastore è in formato Office OpenXML voi vi trovate ad avere un decodificatore aperto nel caso di ODF e un decodificatore chiuso i documenti ve li scambiate ma la realtà è che è uno scambio illusorio nel senso che finché li avete in formato ODF siete voi che controllate e gestite il documento e i suoi contenuti quando ce li avete in un formato Office OpenXML in un formato proprietario è il software che lo fa per voi e voi avete perso realmente la possibilità di gestirli in modo libero dicevo prima che in Italia in realtà le linee guida parlano di formato aperto e dicono che deve essere pubblico versionato documentato esaustivamente eccetera eccetera con una serie di condizioni alcune di queste sono rispettate da entrambi i formati è un formato pubblico documentato esaustivamente d'altronde se non fosse esaustivo 7600 pagine non oso pensare a cosa è esaustivo entrambi non hanno vincoli all'implementazione significa che c'è una rinuncia alle proprietà intellettuali contenute all'interno del formato e sono riconosciuti da un ente di standardizzazione il problema è che solo ODF rispetta alcuni dei delle caratteristiche fondamentali la versione dichiarata in ogni file è mantenuto in modo condiviso tra più enti che hanno implementazioni concorrenti quindi c'è LibreOffice Apache OpenOffice Calligra Microsoft Office AB Word Numeric ovviamente AB Word solo ODT numeric solo ODS però ciascuno di loro gestisce il formato e non è assolutamente casuale che il formato se voi salvate in formato DF da parte di quasi tutti questi software i file si somigliano abbastanza i file si somigliano abbastanza diciamo che quelli più diversi sono quelli di Microsoft Office ma non sono così diversi dagli altri diversi intendo non tanto come sintassi ma come dimensioni e lunghezza delle righe di XML che è un parametro fondamentale che vedremo fra poco ODF rispetta anche il processo trasparente le minute del technical committee sono pubbliche e il formato è consistente con la versione dichiarata quindi ODF 1.0 tutti gli ODF 1.0 sono scritti allo stesso modo così come ODF 1.2 così come ODF 1.3 ho fatto già delle verifiche con la beta della versione 7 che inizia ad avere le prime patch per il formato 1.3 e le caratteristiche di stabilità e di coerenza sono mantenute nonostante siamo ancora in beta per il formato il formato dichiara la versione come vedete questo è un pezzo di XML di fatto è l'intestazione dei file come vedete alla fine c'è scritto Office version 1.2 ancora non c'è la 1.3 perché non è ancora stato implementato al 100% la 7 verrà annunciata fra un mese e mezzo e quindi ancora si è in fase di lavorazione credo che il formato nella sua versione definitiva sarà intorno alla Release Candidate 2 Office Open XML questi sono due degli n file sono due file degli n file XML contenuti all'interno di un documento ce ne sono n anche nel formato DF ma ciascuno ha una sua funzione questi sono i due che comunque forniscono informazioni sul formato come vedete non esiste nessun tipo di dichiarazione del formato a parte che quelli che conoscono un po' la sintassi XML vedranno già che per esempio c'è un W2 punti document che non è standard ed è proprio quello che intendevo prima quando parlavo di interpretazione della sintassi ODF riutilizza tutti gli standard esistenti almeno quelli possibili Office Open XML utilizza solo il Dublin Core che è quello che gli permette ovviamente di essere XML perché altrimenti non sarebbe neanche XML immaginiamo che LibreOffice sia Shakespeare e scriva to be or not to be that is the question allora nel 2017 lo scrive in un modo nel 2018 lo scrive in modo assolutamente identico ancora per quelli che conoscono la sintassi XML text due punti paragrafo text due punti style name P1 questo è un nome interno che viene dato dall'ODF essendo un documento cortissimo lo style name è paragrafo 1 quindi P1 ovviamente è sempre lo stesso se ci fossero più paragrafi con più stili di paragrafo avreste un P2 P3 P4 e così via e nel 2019 lo scrive ancora ugualmente sono convinto che nel 2020 sarebbe assolutamente identico ovviamente appena avrò la versione 7 farò un confronto con ODF 1.3 Microsoft Office come Shakespeare nel 2017 come vedete lo scrive così non c'è un tag standard XML si sono addirittura inventati il preserve che significa tieni insieme perché mettono la virgola in un tra due tag e la virgola da sola proprio l'XML non la prevede come così come non prevede lo spazio nel 2018 lo scrive in un altro modo per chi è diverso potrebbe sembrare simile ma in realtà è diverso e nel 2019 lo scrive ancora in un terzo modo e questo in un paragrafo di dieci parole potete immaginarvi cosa succede se andiamo su paragrafi lunghi ma lo vedremo o su documenti sui colori questo è rosso e per il computer è un ff0000 LibreOffice lo scrive allo stesso modo con writer calc e impress Office OpenXML lo scrive in tre modi diversi a seconda dell'applicazione addirittura ci mette un RGB che non c'è tra niente molto semplicemente perché non è RGB il colore è descritto in quel modo il calendario in un foglio elettronico il calendario è fondamentale le date sono fondamentali sono in molti casi sono un elemento fondamentale delle funzioni beh Office mantiene il bug dell'anno bisestile introdotto da Visicalc nel 1978 per cui considera come come giorno esistente il 29 febbraio 1900 che in realtà non è mai esistito e in più non raffigura le date con un formato data con uno dei formati data standard ma con un numero progressivo dal primo gennaio 1900 numero progressivo che ovviamente ha sbagliato di uno per cui per esempio queste sono alcune delle date della mia vita io in realtà sono nato il giorno 19.947 ma per Excel sono nati il 19.948 perché c'è un giorno in più ma nella realtà sono nati il 12 agosto del 54 quando io in genere quando sono a un evento dove c'è una persona di Microsoft gli chiedo sempre di dirmi la sua data di nascita in genere ovviamente mi rispondono con una data che è tipo 12 agosto 54 io dico no se tu usi Excel mi devi dire la data Excel perché bella forza usi un software lavori in Microsoft ragioni con le tecnologie Microsoft quindi per favore io sono nato il 19.948 che giorno sei nato tu ovviamente alcuni di loro molti non sanno neanche che le date sono raffigurate in questo modo ma è assolutamente divertente come cosa divertente per non piangere chiaramente come dicevo prima facciamo un confronto tra ODF Office OpenXML su un file di una pagina di due paginette come vedete banalissime un lorem ipsum quindi non ci sono dentro possibilità di avere spell check che faccia casino ODF 1.2 non so ancora 1.3 ma sospetto che saremo lì 222 righe in un caso ho avuto 223 righe ma una riga in più come vedete le versioni di Microsoft Office ciascuna di loro ha un certo numero di righe diverse andiamo dalle 1040 alle 12.854 però in realtà c'è un dettaglio che qui non è visibile così come nel campo della moda esistono la stagione estiva invernale la collezione autunno inverno questa esiste anche nel caso dei documenti di Office allora nel caso dei documenti di Office voi avete un transition all'estate 2017 di 1590 righe e avete un transition al primavera 2019 di 7731 quindi gli utenti di Office hanno la straordinaria opportunità di dire no io preferisco salvare in transition all'autunno 2018 perché preferisco la sintassi scherzo ovviamente nessuno di loro ha competenze per poter dire una cosa del genere però questo vi dà un'idea di quello che c'è dietro e che non si vede e chiaramente quando voi vedete un file di Microsoft Office letto da LibreOffice magari in modo non perfetto molti dicono ah vabbè ma la colpa è di LibreOffice no la colpa è di chi ha scritto il formato di Office in quel modo se volete vi mando i file però questa è una schermata dell'XML di quel documento è la schermata di dove ci sono i contenuti come vedete i paragrafi sono tutti in fondo prima ci sono le dichiarazioni di di paragrafo qui vedete quelle di tabella tabella 1 eccetera perché c'era una tabella quindi naturalmente la tabella viene definita prima di andare ai contenuti questo è il modo in cui Office scrive lo stesso documento come vedete ci sono mezze frasi singole parole pezzi più lunghi questo nel 2013 lo scriveva così nel 2016 lo stesso pezzo è scritto in questo modo non c'è assolutamente nessun tipo di prevedibilità chiaramente qual è il concetto il concetto è che ODT ma ODF in generale cerca di scrivere di creare un formato siccome l'obiettivo e l'interoperabilità di ridurre al minimo la complessità e di fare dei file che sono leggibili dagli umani chiaramente umani competenti non tutti gli umani Office ha un approccio che è completamente diverso che è esattamente il contrario massima complessità in funzione della tecnologia e scrive anche ODF in questo modo quindi i file non sono quasi mai leggibili dagli umani a meno che abbiano una competenza elevata sull'XML ma sfido quanta gente a trovarla deduzioni in genere ovviamente è che tutti gli sviluppatori LibreOffice sono dei geni e tutti gli sviluppatori Microsoft Office sono dei cazzoni scusate qui ho scritto incapaci ma la realtà dovrebbe essere che sono dei cazzoni però credo che non sia così credo che le deduzioni reali sia che il formato è artificiosamente tenuto in quel modo perché in questo modo si protegge un mercato che ancora oggi vale 25 miliardi di dollari ovviamente ciurlando e milioni di utenti ma non gliene può fregare di meno perché chiaramente loro fanno in modo che i guasti creati dal formato siano i minori se uno utilizza le versioni di Office e siano i più alti se uno non utilizza le versioni di Office però per loro sfortuna c'è questa complessità nascosta crea un problema di sicurezza e con questo mi avvicino alla fine della presentazione già nel 2011 il governo tedesco aveva avuto il sospetto che i formati di Office e anche il PDF non fossero esattamente sicuri quindi aveva commissionato a Symantec una ricerca e come vedete questi sono i tipi di file usati negli attacchi dei malintenzionati come vedete dentro c'è PPT XLS X il WRI è Microsoft Works che non esiste più però è esistito e aveva i suoi problemi XLS RTF i PDF ovviamente che Adobe ha quella dello standard PDF è un'altra storia interessante e che varrebbe la pena di un'altra presentazione ma è completamente diverso come problema nel 2018 fine 2017 no scusate fine 2018 ultimo quarter del 2018 Kaspersky fa una ricerca su le piattaforme più utilizzate per gli attacchi informatici e come vedete il 70% è Office quindi sono i documenti di Office è chiaro che questo è legato al fatto che mentre sarebbe molto complesso infilare della roba che non c'entra nulla in un file che è scritto in modo asciutto e in modo sempre ripetibile uguale è estremamente facile infilare dentro simlink e cose spurie in un file che non rispetta nessun tipo di di ripetibilità dei contenuti e tanto che questo è queste slides sono di una settimana fa fanno vedere il numero delle vulnerabilità di Microsoft Office lo confrontano quello dopo la slide dopo è relativa a LibreOffice negli ultimi quattro tre anni tre anni di calendario quindi si va da metà del 2017 alla metà del 2020 guardate la scala sulla sinistra per favore qui la scala è 100 quindi la barra più bassa che è quella del 2020 che però riguarda sei mesi è 40 questa è sono le barre che riguardano LibreOffice ma la scala è 12 quindi la barra più alta che è quella del 2019 sono 11 vulnerabilità e pensate che le 11 del 2019 di fatto ce le siamo andati a cercare perché dall'inizio del 2019 siamo diventati siamo riconosciuti da dalle organizzazioni di sicurezza come una delle autority che è in grado di dare di attribuire i numeri alle vulnerabilità prima venivano attribuite dagli altri da Mitre o da altre organizzazioni e noi siamo talmente trasparenti che in realtà queste se volete secondo le misurazioni precedenti le 11 vulnerabilità del 2019 forse sono un massimo di 7 o 8 è che noi per trasparenza quando le vulnerabilità davano la possibilità di avere due o tre attacchi di tipo diverso e abbiamo dato due o tre numeri di vulnerabilità diversi quindi le abbiamo quasi si potrebbe dire gonfiate rispetto a quello che avrebbero dovuto essere però nonostante questa accelerazione siamo a 11 contro diciamo una cinquantina e chiaramente questo dimostra che abbiamo un formato molto più solido molto che purtroppo è molto meno conosciuto e quindi questo è il vero problema è questo qui io vi ringrazio dell'attenzione scusate la lunghezza però è un è un argomento complesso e adesso mi leggo se ci sono delle domande sì allora c'è una domanda di Loris per il resto abbiamo avuto commenti ma direi questo è stato assolutamente molto chiaro nella tua disposizione allora Loris ci chiede ti chiede per i filtri di esportazione verso i formati o xml quali standard vengono scelti da Librofis sono stati disponibili allora diciamo che cerchiamo sulla base dei documenti che abbiamo e che riceviamo cerchiamo di individuare un filtro che sia il migliore possibile non parlare di standard non è possibile nel senso che Microsoft documenta il formato il problema è che il formato lo documenta ma non si sa quando lo implementa quindi capite che è come andare a caccia io dico sempre la compatibilità col formato Office Open XML è come andare a caccia stando in piedi sul sellino di una moto ma guidando la moto stessa e cercando di sparare alle quaglie che sono nascoste dagli alberi perché la visibilità che c'è sul formato è effettivamente minima per cui è un lavoro di approssimazione noi per il motivo che il nostro formato interno è basato su ODF naturalmente cerchiamo di fare un po' di reverse engineering ma non possiamo fare reverse engineering come lo fa per esempio Only Office che basa il suo formato interno su Office Open XML quindi ovviamente loro clonano l'ultima versione di Office fanno reverse engineering dei loro filtri e hanno sistemato la questione infatti i loro file generalmente i file di Open Office Only Office apre bene gli ultimi file e più si va lontani dall'ultima versione del formato peggio li apre noi cerchiamo di come dire di soddisfare un 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 minimo come un denominatore ideale ma è molto complicato però non non c'è un vero non esiste in realtà non esiste un vero standard ci arrivano documenti che dicono Libre Office fa questo errore nell'apertura del documento e gli sviluppatori vanno a studiare che cosa è successo il problema è proprio questo purtroppo c'è ignoranza cioè la gente allora uno pensa che Office Open XML i docx sia standard e docx non è uno standard e seconda cosa lo citano ma perché si fermano a parte poi che Only Office ha un numero di funzionalità che non è neanche non è nemmeno confrontabile con quello di Libre Office è confrontabile con Office in termini di numero di funzionalità disponibili Only Office è un sottinsieme di funzionalità loro si attengono molto al formato quindi quello che riescono a gestire col formato sta nelle funzionalità ma se aumentassero le funzionalità a livello di Libre Office probabilmente avrebbero enormi problemi di formato a questo aggiungiamo che i formati di Libre Office sono in continuo miglioramento quindi abbiamo una le affermazioni sono perché magari hanno usato Libre Office cinque anni fa poi hanno usato Only Office un anno fa e dicono lo apre meglio fai un confronto oggi su formato su formato io che provo a fare il confronto in termini come dire sugli stessi documenti non ho trovato enormi differenze ci sono piccole differenze alcuni documenti si aprono un po' meglio altri si aprono un po' peggio ma devo dire che il livello qualitativo non è non è molto diverso il problema in molti casi sta nell'ignoranza degli utenti gli utenti andrebbero aiutati a capire che in molti casi sono loro a creare problemi con i documenti che creano vedo una domanda sulle macro aspetta andiamo per ordine allora praticamente successivamente abbiamo la nonna cloud il nick del nostro utente chiede se esiste un progetto open source alternativo office 365 io conosco collabora per dire online si si esiste c'è un libro c'è collabora online c'è libro office online ovviamente noi non non siamo in grado di dare un'infrastruttura quindi l'infrastruttura deve essere creata da qualcuno che è in grado di 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 mettere in piedi un server next cloud un server un cloud comunque un'infrastruttura che consente di di avere il la base della condivisione di documenti noi non abbiamo in termini proprio di possibilità anche di investimento quello di di creare quel tipo di infrastruttura che è solo alla portata sola di del di aziende come microsoft google amazon eccetera poi c'è marco marega che solleva una questione che volevo anche porti io in un'altra ottica cioè il discorso anche noi come associazione di piena di lug nella nostra divulgazione secondo te cosa paga di più a prescindere dal fatto che abbiamo detto che il formato oif è qualitativamente migliore ma in ottica di riscontri con gli utenti per poterli portare a migrare diciamo a provare comunque prodotti alternativi e paga di più diciamo il il divulgare la compatibilità con la suite microsoft oppure la bontà o di libro office come prodotto o la bontà del formato oif come alternativa allora secondo me la compatibilità con il formato proprietario deve venire sempre dopo perché se se facciamo la gara sulla compatibilità sui formati proprietari ci mettiamo in un in un ambito dove c'è un casino di gente e dove purtroppo e non per nostra responsabilità ma per proprio per come sono concepiti i formati è è un casino essere i migliori poi noi possiamo essere estremamente validi e lo siamo ma ci sarà sempre un caso dove libro office farà casino ci sarà sempre caso dove libro office fa casino o l'office no e viceversa quindi e poi comunque non educhiamo gli utenti allora gli utenti noi dobbiamo dire noi creiamo una suite che nasce per farti creare documenti che tu puoi scambiare in modo sicuro e trasparente con le altre persone poi sta a te capire se vuoi fare questo e allora usi libro office e usi odf o se invece non te ne frega niente e i tuoi documenti e della fine dei tuoi documenti non te ne frega niente e allora usa quello che vuoi perché la realtà è che la differenza è che noi ti diamo la proprietà dei documenti in mano gli altri ti tolgono la proprietà dei documenti dalla mano è ovvio che è un è un discorso difficile perché la gente dice ma come il documento l'ho scritto io di proprietà mia sì la differenza è che io ti do insieme al documento ti do le chiavi gli altri ti danno solo il documento e non ti danno le chiavi è come uno dire prendi la macchina ci fai dove vuoi ma le chiavi della macchina ritengo io cioè se tu scendi dalla macchina devi lasciare il motore acceso e non chiudere perché altrimenti non rientri mai più dentro la macchina direi chiarissimo direi chiarissimo andiamo avanti perché ci sono diverse altre domande allora c'è Loris che chiede in ODF c'è la standardizzazione delle macro allora le macro non per motivi proprio legate allo standard la macro non può essere standard come le animazioni nelle presentazioni in press non possono in press o powerpoint o comunque non possono essere standard semplicemente perché la macro è un programma e non esiste standardizzazione dei programmi quello che noi facciamo è quello di consentire agli utenti di interagire con LibreOffice utilizzando un linguaggio moderno e quindi ovviamente più sicuro del basic come Python e questo è il consiglio che noi diamo a tutti è proprio questo qui e in alcuni casi è un consiglio che si rivela anche vincente adesso stiamo parlando o aiutando a seconda di come lo vogliamo interpretare il CERN a testare LibreOffice e sicuramente per un'organizzazione come il CERN dove c'è gente in grado di sviluppare con Python il fatto di avere compatibilità Python e quindi di creare macro che siano portatili perché ovviamente non sono legate a un sistema operativo o una versione eccetera è estremamente importante sono macro che possono essere aggiornate con la nuova versione del compilatore cioè i vantaggi sono numerosi però la macro non è standard la macro è un elemento di insicurezza del file la Nato per esempio proibisce l'uso di macro all'interno dei file perché ovviamente è molto attenta alla sicurezza dobbiamo imparare a ragionare a utilizzare documenti dove il numero di macro sia il più ridotto possibile e dove invece si utilizzino software come LibreOffice che hanno la possibilità di essere agganciati all'interno di procedure come elementi di una soluzione che però è una soluzione della quale l'utente mantiene il controllo le macro sono delle variabili impazzite che poi la gente continua a usarle ovviamente la macro è uno degli elementi chiave del lock-in di Microsoft ok sempre sul tema macro chiede Andrea Piovesana riguardo le macro in Python la versione 7 in arrivo del LibreOffice ha novità a riguardo? non so rispondere perché intanto non ho visto ancora e poi io non sono un tecnico quindi per me Python è il nome inglese del pitone ok allora passiamo a Marcello che chiedeva prima è citato sul discorso vulnerabilità dei rischi legati al pdf possiamo quantificarli un attimo e comunque esiste un'alternativa al formato pdf eventualmente affrontare allora la storia del pdf è una storia triste in questo senso in realtà il pdf il pdf adesso è standard ISO e quindi il pdf 2.0 è standard ISO la pdf foundation credo alliance si chiama qualcosa del genere dice in modo molto ci siamo liberati dalle parti proprietarie del pdf che erano di proprietà di adobe la realtà è che loro si sono da un certo punto di vista hanno ragione hanno eliminato dal pdf alcune componenti che erano si proprietarie di adobe ma erano state rilasciate non con licenza libera ma con il covenant not to sue quindi erano liberamente utilizzabili ma il il formato era ampiamente documentato adesso il formato 2.0 è estensibile e quindi di fatto il pdf di adobe standard ISO è molto meno standard del pdf fino alla versione 1.7 che non era standard ISO ma era controllato dal suo inventore che era John Warnock che è stato che è quello che ha sviluppato il post script e ha anche sviluppato le prime versioni di photoshop quindi come sviluppatore aveva un minimo di competenza e che aveva costruito il pdf per essere assolutamente un formato uno standard aperto proprietà di proprietà di adobe ma aperto adesso lo standard è diventato aperto controllato da una fondazione indipendente ma esattamente sviluppato e gestito da adobe tanto quanto office open xml gestito da microsoft in modo non trasparente John Warnock si gode la pensione nella sua casa nello Utah e da quando lui è andato in pensione io ho lavorato con lui per 19 anni quindi lo conosco molto bene e ho fatto sono stato coinvolto nella nella presentazione diciamo nello sviluppo e nella presentazione della prima versione del pdf nel 1992 per cui so benissimo come è andata la storia e non esiste un'alternativa al pdf semplicemente perché non esiste un altro linguaggio di descrizione della pagina ottimizzato come il post script e il pdf di fatto è basato sul post script però chiaramente qui è ISO che invece che essere come dire sensibile al doblone dovrebbe essere sensibile alla protezione dell'utente ma invece sembra che ISO sia molto più sensibile al doblone ok allora passiamo un attimo c'è anche Marco Mariga che torna un attimo sul discorso LibreOffice Online e ti chiede a parte se conosci a parte Nextcloud ci sono altri software ad esempio gestionali che lo integrano la versione online di LibreOffice allora sicuramente OnCloud poi c'è Pidio Cfile credo anche qualcos'altro però il discorso è le versioni i cloud open source più conosciuti Cfile è cinese quindi non so quanto sia conosciuto in Europa però OnCloud e Nextcloud sono conosciuti Pidio è una società francese che è abbastanza conosciuta in ambiente enterprise e loro tutti quanti hanno l'integrazione con LibreOffice Online o con la versione collabora di LibreOffice Online tenete presente che lo sviluppo di LibreOffice Online l'ha fatto per il direi 95% abbondante collabora Ok poi passiamo allora c'è una domanda una considerazione di Claudio che chiede riguardo alla documentazione sulla OLE Automation di LibreOffice perché lui dice che in Windows esporta in Excel e LibreOffice ma per LibreOffice è un po' più difficile non capisco perché l'automazione OLE è da programma a programma cioè l'esportazione è una cosa quindi se io esporto in formato Excel devo poter importare il formato Excel la OLE è un copia e incolla quindi dovrebbe essere un po' diverso come concetto all'interno di LibreOffice l'OLE funziona in modo trasparente perché il motore LibreOffice ha un motore comune per tutte le applicazioni quindi i dati di calc messi dentro una tabella di writer conservano le loro caratteristiche così come messi dentro una tabella dentro in press però chiaramente se facciamo se salviamo nei formati documentare il salvataggio in un formato è praticamente impossibile o meglio il formato di F esiste una documentazione di riferimento che è chiara nel formato di Microsoft la documentazione di riferimento c'è ma è impossibile sapere il documento a quale documentazione di riferimento si riferisce perché all'interno del documento manca il puntatore alla versione quindi è come se uno dicesse leggi di tutte le 44 adesso non so se sono 44 ma sono almeno una ventina sono poi ce l'ho sul mio hard disk i pdf ve li posso vi posso dire leggiteli tutti e interpreta tu qual è quello che descrive il documento che tu stai guardando perché non c'è un ma anche fosse un codice alfanumerico di 44 cifre non c'è quindi i documenti di office sono di fatto indocumentabili dal punto di vista non è possibile risalire alla versione tanto che il governo francese lo ha detto in modo chiaro siccome è impossibile risalire la versione non sono ammissibili all'interno della pubblica amministrazione ma in Italia chi ha il coraggio di prendere una posizione di questo tipo direi che c'è stato anche uno scambio abbastanza attivo insomma nella chat comunque non domande ma comunque botte risposte tra gli utenti con le varie esperienze mi pare che come domande vediamo non abbiamo altro ci sono sicuramente riflessioni interessanti ovviamente su quelle che hai anche lanciato tu sulla differenza in effetti devo dire se posso un po' riassumere mi pare che l'Italia faccia un po' più fatica diciamo a fare ragionamenti terzi neutrali per quanto riguarda la scelta di strumenti di piattaforme di software non è ben chiaro perché diciamo forse la politica le competenze diciamo della politica di volta in volta dei governi che succedono sembra che in Europa e magari altri stati riescono a riflettere sono un po' più attenti si trasversalmente ma magari anche con più l'ugimiranza prima dicevi che non si riescono a fare piani magari a medio lungo termine da noi cambiano i governi possono cambiare completamente le strategie si e poi uno dei problemi è che purtroppo si lascia troppo spazio cioè com'è impostato proprio anche gli aspetti di come vengono fatti gli acquisti all'interno della PIA tutto il sistema è impostato in un modo dove per il mondo open source diventa molto difficile muoversi in quanto è un mondo fatto di realtà piccole e quindi diventa complicato riuscire a operare sulle piattaforme della PIA mancano competenze e le competenze quando ci sono per esempio il team digitale aveva le competenze quindi il team digitale ha scritto le ultime linee guida e le ha scritte molto bene facendo un glossario che non lascia spazio alle alle a interpretazioni e il problema è che poi ci sono stati dei politici che hanno detto ok però se ci date una roba che non lascia spazio alle interpretazioni noi come ci muoviamo allora stiamo definendo degli standard gli standard non possono lasciare spazio alle interpretazioni non ti posso dire 220 più o meno 40% per la corrente elettrica perché ovviamente brucio tutto quindi posso capire che c'è uno spazio di gioco minimo ma qui lo spazio di gioco che si richiede è uno spazio enorme e non è francamente percorribile bene vediamo se c'è ancora qualcun utente vedo che c'è Damiano sta scrivendo non so se vuole fare una domanda o un semplice commento altrimenti vediamo come tempi ci siamo stati direi tranquillamente un'oretta e mezza vabbè la stiamo scavallando adesso ma ecco forse c'è ancora qualche domanda vediamo e certo non si fa una domanda allora il rettore responsabile dell'università di Udine non si fa delle domande sul fatto cioè se al posto di Microsoft ci fosse un pusher che gli dà della coca gratis probabilmente si farebbe una domanda perché me la dà gratis ecco si faccia la stessa domanda recentemente il fatto quotidiano ha fatto un articolo proprio su Microsoft e Google e i servizi resi gratuitamente diciamo alle scuole specialmente in periodo Covid da quanto ho letto nell'articolo che ha fatto una ricerca diciamo non c'era una questione legata alla privacy perché effettivamente le condizioni sembravano rispettose c'è però sempre il discorso è stato sottolineato nell'articolo del fatto che è comunque la manovra di fidelizzazione di caparaggio di clienti potenziali futuri e di fidelizzazione perché comunque tu affezioni una certa utenza a un certo tipo di servizio che probabilmente anche dopo la scuola continuerà mentre effettivamente al di fuori dell'Italia ci sono diversi stati che magari cercano di dotarsi di servizi propri o di frastrutture c'era anche il discorso di citavo prima Italo che Monaco di per sé aveva fatto una sua distribuzione Linux aveva creato un suo sistema sarebbe una cosa interessante però effettivamente in Italia adesso a parte il lavoro del team digitale non abbiamo grandi riscontri purtroppo purtroppo no devo dire purtroppo abbiamo queste problematiche di non saprei neanche come definirle perché in alcuni casi è veramente imbarazzante cioè io ero stato coinvolto da Agid nella stesura delle linee guida non delle ultime ma delle precedenti e la cosa è imbarazzante me ne sono reso conto tardi chiaramente perché se no non sarei non sarei stato al gioco che noi del mondo open source c'ero io c'era Carlo Piana c'era Renzo Davoli eravamo stati coinvolti come dire per giustificare il fatto che comunque facevano avrebbero fatto quello che volevano ma a questo punto noi gli facevamo come dire da e beh c'eravate anche voi poi è venuto fuori il lavoro che faceva veramente cagare e dice però voi eravate lì e quindi lo avete di fatto approvato vi assicuro che era imbarazzante arrivavano i politici e c'erano l'uomo di Microsoft quello di Oracle e quello di oddio vabbè non mi viene il nome ma comunque di un'altra grossa azia di Almaviva che i politici non solo li chiamavano per nome ma gli chiedevano se la moglie era stata a tagliarsi i capelli l'ultima settimana se erano andati a mangiare il pesce alla Dispoli che è vicino a Roma se il figlio aveva superato l'esame se c'aveva ancora problemi se stava bene la nonna cioè noi noi ci presentavamo nome e cognome capito cioè per cui c'è un livello di frequentazione che non è ma non è neanche confrontabile assolutamente e a questo aggiungiamo che questi erano dipendenti di Microsoft Oracle e e Almaviva in più Microsoft utilizza la più grossa agenzia di lobby italiana per fare quello che non riesce a fare direttamente più grande società di lobby italiana che è di proprietà di Samaritana Rattazzi che forse non vi dice nulla ma è la nipote di Gianni Agnelli la figlia di Susanna Agnelli e chiaramente quando uno chiama in Italia e dice sono Agnelli credo che apra un tot di porte senza neanche aver bisogno di bussare quindi siamo purtroppo in una situazione di disparità di forze enorme in Europa il tentativo in molti paesi c'è però ci sono anche paesi che bloccano queste cose qui la Germania ha stabilito che la le politiche sulla sovranità digitale vengono decise in modo indipendente dalle aziende in Italia Agid convoca le aziende per scrivere le specifiche dell'adozione del software prodotto dalle stesse aziende capite che c'è proprio una differenza di atteggiamento che non è accettabile però purtroppo questi li votiamo noi non li voto io sicuramente come individuo non li vota nessuno sicuro come individuo però poi alla fine sono loro che vengono eletti e quindi poi le conseguenze sono queste per cui mi spiace ma ne voglio dire perché poi alla fine andiamo sempre in come dire non dico in politica ma sì credo che come dicevamo un po' prima quando abbiamo fatto il collegamento di test diciamo bisogna lavorare tanto visto l'indice adesi che ci vede agli ultimi posti come cultura digitale e quello che possiamo fare diciamo come associazione localmente o anche come individuo ovviamente ognuno nella propria realtà è cercare di costruire un po' di questa cultura digitale no? assolutamente sana trasversale e ovviamente cercando appunto di far trasparire la bontà diciamo non tanto appunto spingere un prodotto a un altro il discorso anche dell'intervento di questa sera credo che sia stato importante parlare più di un formato del prodotto software no? il formato il problema è proprio il formato e la gente è chiaro che è complicato però vi assicuro che io ho provato a farli vedere vabbè a persone che conosco però mi sono stampato mi sono ho esploso i documenti e mi sono stampato l'xml e già chiaramente allora vi assicuro che 220 linee stanno su tre pagine di xml 11.000 righe ci vogliono una quarantina di pagine forse anche di più già far vedere il blocchetto di pagine e l'altro dire questo è il documento il documento che vedi è lo stesso questo è il formato che stai usando tu e questo è il formato che sto usando io tra i due quale useresti e automaticamente la gente perché se no puoi fare anche come dire un po' lo stronzino di più e dirgli dimmi secondo te qual è quello che stai usando tu ovviamente ti indicano tutti quello più piccolo no no questo è quello che uso io quello che usi te è questo ed è scritto così poi ti guarda e fa ma cosa vuol dire perché nell'odf vedono che le cose che sono scritte sono lì nell'altro non le vedono e quindi dicono ma vabbè ma dove sono i contenuti è quello che stavo cercando di spiegarti cioè tu non hai la chiave dei contenuti io ce l'ho tra i due quale scegli però purtroppo è una strada in salita chiaramente perché quelli di Microsoft sono bravissimi non è che ci avessimo davanti degli ottusoni ma non ci abbiamo davanti degli ottusoni ci abbiamo gente che ha risorse economiche e anche capacità di raccontarle ragazzi vi saluto perché grazie veramente alla disponibilità abbiamo scavallato diciamo ormai abbiamo scavallato realmente grazie mille alla disponibilità e della veramente della grande chiarezza dell'esposizione grazie a tutti quelli che hanno partecipato ho visto diversi scambi e partecipazione inlazata oltre alle domande e niente vi invito ovviamente a rimanere sempre sintonizzati sui nostri canali del PNLUG perché ovviamente anche per luglio abbiamo in servo altri appuntamenti open talk e vi auguro a tutti buona serata e a presto saluti a tutti ciao 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 ciao